Buonanotte Lecchieng, ben asivata in Puglia, a Monteleone di Puglia, uno dei piccoli comuni della Capitanata dove l'integrazione sta avendo più successo che altrove. Sì, intanto sono felicissima di essere in questa regione perché da quando ho messo piede qua sto vedendo tutte delle buone pratiche. La cosa che ho notato e che visiterò, quindi mi renderò conto anche qui a Monteleone, è che i piccoli centri a mio avviso salveranno l'Italia perché tutte le buone pratiche, l'accoglienza che sto vedendo avviene nei piccoli centri. Oggi dobbiamo infondere all'interno della nostra comunità, delle nostre comunità, la cultura dell'accoglienza e quello che sta dando la gente, i cittadini di questi centri è enorme, enorme. Qui a Monteleone di Puglia tanti ragazzi di colore stanno trovando anche lavoro, stanno imparando la lingua italiana, giocano a pallone con i ragazzi di Monteleone. Davvero una cosa molto bella, è la risposta a quanti sono ancora scettici? Il fatto di essere scettici dipende anche dal fatto che alcuni gruppi politici, alcuni partiti hanno capito che su questo tema bisogna lucrare. Pochi voti, non importa come, visto che viviamo in eterna campagna elettorale, ma che su questi temi bisogna lucrare. Oggi dobbiamo andare oltre quella polemica, dobbiamo andare e far capire che l'integrazione, l'accoglienza, l'interazione è possibile. Io devo dire che grazie alla mia collega Elena Gentile ho potuto vedere delle cose meravigliose, che da qui farli conoscere a tutta l'Italia diventa doveroso. Quindi anche a chi in questo momento non crede, ma non abbiamo il diritto come leader politici di avvelenare il clima, abbiamo piuttosto il dovere di prevenire conflitti e lo si fa attraverso una buona accoglienza.